Solo negli 89 giorni del primo lockdown è morta una donna ogni due giorni uccisa da un membro della sua famiglia e ogni giorno in Italia sono centinaia le donne vittime di violenza di genere insulti, ricatti, abusi, violenze, femminicidio non esistono scuse per la violenza non l'amore, non la gelosia, non la follia diciamo stop alla violenza sulle donne 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 diciamo stop alla violenza sulle donne basta